Ciao! Oggi cuciniamo una soffice ciambella allo yogurt. Vediamo gli ingredienti! In una ciotola versate lo yogurt, lo zucchero, la farina e la buccia del limone. Mescolate il tutto. Aggiungete l'olio e successivamente le uova. Mescolate. Unite il lievito alla fine e versate in uno stampo da ciambellone imburrato e infarinato. Infornate a 180 gradi per 25-30 minuti. La ciambella allo yogurt è pronta! Un saluto da Stefania Rigon e buon appetito! Ciao!